AFA e caldo estivo? La migliore dieta anti-afa è quella ayurvedica. La ayurveda propone una dieta anticaldo efficace e molto speciale. Secondo la ayurveda, la medicina indiana, esistono cibi che rinfrescano il corpo da preferire e altri che lo riscaldano da evitare. La dieta ayurvedica prevede cibi e bevande che non aumentano il calore, cioè l'elemento fuoco nel corpo. Ma come faccio sapere quali sono? Giusta domanda. I cibi non vanno considerati solo per la loro temperatura, se escono dal frigo o se sono caldi sotto il sole. È l'effetto che fanno all'interno del corpo che conta. Quali sono i cibi rinfrescanti? Quelli che non provocano acidità o bruciore durante o dopo la digestione. E sapete da cosa dipende? Dal loro sapore. I cibi rinfrescanti secondo la ayurveda hanno un sapore naturalmente dolce, come ad esempio i datteri, il riso, il grano amaro, come la curcuma, la cicoria o il tarassaco, o astringente, come il ribes rosso, il melograno, il tè nero. I cibi che provocano calore sono quelli piccanti, pepe, peperoncino, spezie piccanti, aspro come lo yogurt naturale, l'aceto, la frutta acerba, salato come tutti i vari tipi di sale e le alghe marine. Per questo è meglio evitarli quando fa caldo. Per un intermezzo estivo, invece di patatine o snack salati, meglio della frutta dolce, come l'anguria o il melone. Grazie alla ayurveda da adesso saprete sempre cosa mangiare per contrastare il caldo e perché in estate è meglio la frutta dolce dello snack salato. Ma funzionerà davvero? Sì, da oltre 2000 anni. Provare per credere. Se ami la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!